...essa... ...secondo polo Fichera... ...schiangheratissimo... Del Piero con Marchionni che taglia... Del Piero perde un po' di tempo potere... Marchionni ora di rigore... ...se allunga pallone Marchionni... ...Suglio Senza... Ibrahimovic... ...di prima ancora splendido per Fico... ...di rigore Fico... ...uno contro uno Fico... ...Buffone a palanga... ...la palla di Stankovic... ...c'è il tocco di Molinare... ...che dice di aver preso il pallone... ...Polse mi ha portato via il pallone... ...ma insiste ancora l'Inter... ...ha cercato Balotelli... ...posizione regolare... ...Ballotelli il controllo... ...uno contro uno... ...un minare di rigore... ...arriva il raddoppio... ...Ballotelli aspetta l'aiuto di qualcuno... ...sono in quattro intorno a lui... ...Ballotelli ancora... ...cerca di andare via... ...ma chi è nel possesso del pallone... ...Ballotelli... ...splemio la sua giocata... ...Ibrahimovic... ...grande potenza di Balotelli... ...che non ha avuto paura... ...in mezzo a quattro... ...ma la conclusione che trova Buffon... ...la cercata Stankovic... ...c'è un contatto con Chiellini che va giù... ...si prosegue dice Farina... ...dai io un po' scoperta... ...Ibrahimovic dai e vai... ...palla di ritorno di Stankovic... ...quattro contro due... ...Ibrahimovic dentro per montare... ...ci sono due giocatori dell'Inter... ...liberi dalla parte opposta... ...e controversone per Balotelli... ...nare di rigore... ...super... ...Mario Balotelli... ...1-0... ...la quinta fuori per Marchionni... ...prende il tempo a Stankovic... ...è passato... ...Marchionni nare di rigore... ...e si allunga ancora troppo il pallone... ...e permette l'uscita di Giulio Cesar... ...Ibra... ...gli esce incontro le grottaie... ...Ballotelli... ...tunnel... ...su Del Piero... ...che poi si arrabbia un po'... ...e dà un calcione a Montari... ...e poi arriva la botta... ...a Balotelli... ...rosso di Tiago... ...aveva fatto un paio di giochini... ...Ballotelli... ...e secondo Farina... ...Tiago è andato dritto addosso... ...per colpirlo... ...Viera... ...balla per Stankovic... ...uno contro uno di Stankovic... ...con il destro... ...Buffon... ...strepitoso... ...Cerca la profondità per Ibrahimovic... ...se solo Paulsen in copertura... ...recupera ancora Kellini... ...Ibra... ...uno contro uno... ...arriva Viera... ...Ibra porta spasso il pallone... ...sempre Ibra... ...buola uno due... ...si gira... ...Russ... ...Buffon... ...in calcio d'angolo... ...con Grieghera... ...uno a uno...